Come fai a capire? Come fai a capire davvero se un uomo ti ama oppure no? La cosa è estremamente semplice, nel senso ci sono sicuramente delle cose che lui fa e delle cose che non fa ma forse si è trovata spesso in una situazione dove Oh, non riesco a capire se mi ama davvero, non riesco a comprendere se lui è veramente preso da me oppure no, forse no, non so che cosa devo fare Spesso quando ero con la mia ragazza, all'epoca cercavo sempre di chiedermi più o meno Quali fossero gli atteggiamenti giusti che dovevo trovare e riscontrare con lei per comprendere più o meno quali potessero essere le tracce di amore Però ho capito in realtà che alla fine dei conti non è tanto quello che una donna fa in generale per farti capire che ti ama ma forse è un po' più quello che una donna non fa perché almeno così sei sicuro che ci sono atteggiamenti che non vuoi assolutamente vedere e che se vedi sicuramente sono delle bandierine rosse assolutamente C'è proprio allarme rosso, le cose stanno andando malissimo Questa cosa non va bene Allora, la prima traccia importante di cui ti vorrei parlare in realtà è una traccia che riguarda un po' la menzogna Ok, quindi cerchiamo di capire delle tre cose importanti che non vuoi assolutamente che una persona faccia perché qualora le stia mettendo in pratica sicuramente non è una buona dimostrazione d'amore La prima cosa importante è che è menzognera, ok? Mente, bugie, bugie su bugie Se una persona mente ogni volta, questo non è assolutamente un buon segno Forse è successo con altre persone, forse è successo nelle tue relazioni passate e frequentare persone o donne Donne per me in questo caso Frequentare donne che mentivano continuamente, sputolatamente su diverse cose a diversi contesti durante la relazione Non era il massimo della vita Spesso mi ritrovavo ad avere dei problemi proprio nel riuscire a comprendere dove volessero andare a parare Mentono, mentono continuamente Ed è come se fosse strano per loro ammettere di aver mentito in qualche modo o per assurdo ammettere di non riuscire a dire la verità, no? E anche se non ti sta tradendo la tua ragazza, il tuo ragazzo, in questo caso il vostro uomo Anche se il tuo uomo non ti sta tradendo ma mente su moltissime altre cose Che cosa potresti costruire con lui in realtà? Cioè costruiresti comunque qualcosa basato su una sorta, non so, di castello di sabbia se la vuoi vedere in questo senso Ma comunque a prescindere non sarebbe un piacere avere a che fare con un uomo che si pone e si impone in questo modo, no? Mente su tantissime cose Stasera esco con gli amici in realtà a bere una birra con una Oppure domani sto con i miei in realtà è uscito e non te l'ha detto Però attenzione perché non vuoi mai mettere l'altra persona nella condizione di pensare che Ok, forse è meglio che mento così non litighiamo Perché ci sono anche donne in realtà che permettono all'altro di mentire o mettono l'altra persona proprio nella posizione di dover mentire Spesso mi sono ritrovato in situazioni dove la scelta era Se mento io non litigo con lei, no? E questa è una cosa molto opportunistica se la vuoi vedere in questo senso E dall'altro ladro è Beh, se non mento sicuramente litigerò con lei Quale delle due mi conviene? Se io ho un imprinting positivo con la ragazza che sto frequentando Non mi viene voglia di mentire Non mi viene voglia di dire cazzate Piuttosto mi concentro semplicemente sull'essere limpido e chiaro Su quelle che sono le mie intenzioni Dunque, attenzione perché se un uomo mente Sei tu che puoi metterlo in grado di poter star tranquillo e dirti la verità E mentire comunque in quel caso Perché se quello è il caso e lui mente lo stesso Allo stesso modo Il problema non è più suo Il problema è tuo Perché se questa cosa si replica con diversi uomini È possibile che non tutti gli uomini siano dei menzogneri Ma è possibile che tu abbia degli atteggiamenti specifici Che metti in pratica Che in realtà non ti portano molto lontano Un altro tratto importante Di un uomo che sicuramente non è innamorato se fa questa cosa Sminuirti, sminuirti, sminuirti Ancora sminuirti Da così grossa diventi così piccola Una ragazza che viene completamente sminuita dal suo uomo È una ragazza che chiaramente non è poi così amata Non è poi così amata da lui E se lei lascia che lui continui a sminuirla Teoricamente lei non ama poi così tanto se stessa Quindi in realtà vorresti amarti molto molto di più Storia o aneddoto che ho sentito di recente Tizia va in X posto In X posto ci sono molte persone amiche del suo ragazzo Queste persone amiche screditano molto Tizia Per quello che il sostegno divida a quello che fa E X, il ragazzo di lei In realtà continua a lasciare che gli altri investiscano su di lei Non la prende, non la difende Perché non vuole mettersi in mezzo tra le persone Che fanno parte del cerchio sociale di lui e lei E quindi vai, vai in pasta ai cani e in pasta ai pesci Questo non è proprio il massimo della vita Non è una dimostrazione d'amore Insomma teoricamente vorresti un uomo Che sia in grado di mantenere e preservare Ovviamente il tuo orgoglio Il tuo status e comunque la tua autorità Davanti alle altre persone Non vuoi assolutamente un uomo invece che abbia un assetto mentale Dove beh sai che c'è? Gli altri ti discreditano? Non credo che sia il mio compito difenderti E comunque vuoi che un uomo ti difenda Anche se posso già sentire le femministe Che nei commenti incominciano a strillare Oh io mi difendo da sola Sì ok Se ti difendi da sola tutte le sante volte E non lasci che il tuo uomo ti difenda Non lasci che lui investa su di te Poi non venirti a lamentare nei commenti A dirmi Oh lui ha smesso di iscrivervi e mi ha lasciato Ok Vuoi assolutamente lasciare che lui si esponga per te Dai ragazze Non possiamo credere che questo sia il modo giusto Di rapportarsi con un uomo Ok? Lasciare che ci sminuisca Vuoi questo? Ma non lo voglio nemmeno io con la mia ragazza Non ho una ragazza adesso Quando stai vedendo questo video Almeno mentre lo sto registrando Non ho una ragazza Ma non voglio che mi sminuisca Cavolo Se dovessi vedere la mia lista Voglio persone che Cavolo Stiano a fianco a me Mi elogino Mi supportino Che abbiano stima per quello che faccio La donna non ha stima per quello che faccio Può anche andare a fare in culo E poi c'è il tratto finale Ah se lui non ti presenta agli amici Beh sei davvero davvero finita Io mi rendo conto che ci sono persone che vengono in call con me E mi dicono Ehi sai che c'è Ci frequentiamo da un anno Però non conosco ancora i suoi amici Non conosco ancora la sua famiglia Non conosco ancora suo fratello Non conosco ancora dove lavora Non conosco ancora lui No forse l'ultima parte no Forse lo conosci nel virtuale Il punto è che in teoria Se non ti presenta agli amici E non ti dimostra socialmente impegnata e vicina a lui Le chance che lui possa averti e volerti Per una relazione stabile teoricamente Una cosa impegnativa Sono estremamente ridotte Allora forse non è il caso di rapportarti a lui ancora O comunque Qualora ci siano questo tipo di incombenze all'interno della relazione Ti vuoi esporre Ti vuoi esporre e dire loro Che cosa pensi al riguardo E più o meno cercare di capire dov'è che vorrebbero andare Perché attenzione Non vuoi assolutamente lasciare Che le persone che conosci I uomini che frequenti Si prendano a gioco di te E che alla fine ti dicano ti amo a parole Ma poi con i gesti in realtà Non ti fanno capire che sono interessati O non ti fanno capire che hanno un genuino interesse Ti fanno soltanto capire che alla fine dei conti Se stai a fianco a loro va bene comunque Tanto Rimani comunque no? Beh svegliati E se vuoi davvero svegliarti Iscriviti al canale E seguimi su tutti gli altri social In descrizione trovi tutte le informazioni Per i miei servizi Parlare con me in privato O prima di dare una consulenza Che è tutta conoscitiva And I'll see you in the next